Si cercano, ma ancora purtroppo non si trovano. Dopo ore e ore di ricerche, con ruspe, mani e qualsiasi attrezzo valido e disperato, di Brunella Chiù e del piccolo Mattia ancora non c'è traccia. Sono passati quattro giorni da quel maledetto pomeriggio vissuto dalla provincia di Ancone di Pesaro Urbino, in cui dal cielo sono precipitati circa 400 mm di acqua, pari a quanto solitamente ne piove in un terzo dell'anno. Al numero delle vittime, 10 fino a sabato, quando è stato ripescato nel fiume Esino il cadavere di un'ottantenne di Serra Sanquirico, si è aggiunto quello di Michele Bonprezzi, 47enne di Arcevia, fratello dell'ex sindaco, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. Un bollettino che quotidianamente si aggiorna con il numero delle vittime arrivato a 11, con due ancora dispersi. E sono proprio i dispersi che in questo momento hanno la priorità, con oltre 100 uomini del soccorso alpino e speleologico e 42 vigili del fuoco, sopraggiunti anche da altre regioni, impegnati in queste ore interminabili nella ricerca di Brunella e Mattia. Della donna, 56enne di Barbara, sono stati rinvenuti i resti della sua BMW, travolta dal fiume ritrovata a Burello di Ostra, a 6 km da casa sua, da cui fuggiva con la figlia di 17enne Noemi, una delle 11 vittime ritrovate. Unico sopravvissuto per ora della famiglia è il 23enne Simone, fratello di Noemi, sommersi in questi giorni da un'ondata di solidarietà da tutta Italia. Sono infatti circa 20.000 euro quelli raccolti finora grazie ad un'iniziativa dell'Emolino Paolo Mariani sulla piattaforma GoFanMe. Ore di speranza anche per il ritrovamento di Mattia Luconi, bambino di 8 anni trascinato via dal fiume davanti all'impotenza della madre, ritrovata ferita a un chilometro dal punto in cui l'auto, nella quale erano a bordo, è stata travolta dalla forza dell'acqua. Del piccolo solamente alcuni frammenti di felpa sono stati ritrovati e la speranza della famiglia, sotto shock per la situazione surreale che sta vivendo, è quella che Mattia si sia arrampicato su uno degli alberi portandosi in salvo. Tanti gli aiuti che stanno arrivando dalle altre regioni. Nelle Marche sono più di mille gli operatori che sono impegnati nella ricerca con interventi costanti e non stop per cercare di risollevare tante città e piccoli paesini colpiti dalla distruttività dell'alluvione. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha effettuato oggi diversi sopralluoghi nelle zone colpite, partendo dalla provincia di Pesaro con Cantiano, Serra Sant'Abbondio, Frontone e Pergola per poi passare in quella di Ancona. Nel frattempo si lavora giorno e notte per liberare i comuni dal fango e fare una stima dei danni. Sembra poco, ma è comunque un piccolo passo per cercare di ripartire.